Probabilmente prima della partita il risultato di pareggio sarebbe stato bene accetto dal nuovo Teramo targato Federico Nofri, ma il finale di gara che stava per regalare i tre punti ai Biancorossi si rivela Beffardo, pari immediato del Sant'Arcangelo e nei minuti di recupero due pallegol clamorose avute dal Diavolo per tornare avanti definitivamente. Alla fine però tocca guardare comunque il bicchiere mezzo pieno, perché il Teramo giocava sul campo di una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, soprattutto perché la squadra ha messo in campo quella tigna, quella determinazione che non si erano viste nelle precedenti esibizioni. La reazione c'è stata, ma è chiaro che è solo l'inizio di un percorso che solo se portò davanti con continuità porterà il Teramo fuori dal tunnel. Nofri opta per il previsto 4-4-2, ma è molto offensivo, con Petrella e Forte sulle due corsie, Jefferson e Sansomini in attacco. Per i romagnoli di Marcolini, conferma del 3-5-2 con Cori e Cesaretti in avanti. Dei tanti ex, campo solo per Valentini e Ilari. Partono meglio i padroni di casa, sulla corta respinta di Caidi, Carlini lambisce la traversa. Il Teramo entra in punta di piedi nella gara, ma a metà frazione Ilari, alla sua miglior partita in bianco-rosso, rifinisce un'azione elaborata per Sansovini che spara alto. Ancora i due protagonisti a fine frazione, Ilari per Sansovini, stop e girata dal limite da applausi per il sindaco vicinissimo al bersaglio grosso. Nella ripresa Nofri tira fuori uno spento forte, inserisce Carraro. Ancora meglio i romagnoli, in avvio di tempo, Cesaretti si fionda sul lancio di Sirignano. Rossi si oppone, sugli sviluppi arriva il Rossi di casa che mette in mezzo per Cori. Gran stacco, palla fuori di un soffio. Entra Capitanio per Petrella. Teramo piuttosto e più pericoloso, proprio con l'ex neo entrato, qui Nardi dice no, con grandi riflessi, quasi alla mezz'ora. Poco male, perché al quarantunesimo il Teramo passa, cross di Carcalis, stop e dribbling da antologia di Ilari. Nardi respinge la conclusione ravvicinata, ma nulla può sulla saetta in pieno mucchio di Marco Sansovini. Secondo gol in campionato per il sindaco, che sembra significare vittoria, ma non è così, perché al novantesimo Carcalis non è preciso nel disimpegno. Merini ne approfitta e crossa per l'incornata di Sascha Cori, che non dà scampo a Rossi. 1-1 e il rammarico del Teramo, già grande, cresce ancora di più nei tre minuti di recupero, che diventano sei per l'infortunio a Carcalis. Prima Capitanio svetta ancora bene e Nardi concede il bis con un gran colpo di Reni. Sul successivo corner di Carraro, spettacolare rovesciata di croce che con l'impieno la traversa, subito dopo il fischio finale di Detta di Mantua. Peccato per il Teramo, che può però sperare in una prestazione che segni una inversione di tendenza per le prossime partite.